Ciao a tutti, sono qui a Firenze in un hotel super strafighissimo, tipo si chiama Vila Cora, hotel, grande hotel Vila Cora, ed è un 5 stelle, tipo non c'ero mai stato, ecco qua. Fighissimo, adesso sono elegante perché mi hanno detto che per la cena bisogna essere vestiti bene. E in effetti i camerieri, tutti quelli che passano, sono tutti vestiti giacca e cravatta, proprio bene bene. Siamo qui per le riprese aeree col drone, non so ancora che cosa faremo di preciso, però, tipo che devo ancora rincarare dentro l'hotel, ma chissà come se sono curiosissimo, sono curiosissimo. Per ora fuori è bello, poi vi aggiornerò. Questa è la vista dalla camera. Wow, con il grande... è bellissimo. Invece la camera è un po' disordinata perché l'ho fatta oggi già di mattina. Comunque ci sono dei cuscini enormi, che per la mia allergia sono perfetti. Poi qua, stiamo caricando le batterie del drone per farlo volare. Questo è il bagno. Anche questo è in disordine perché ovviamente. Questo qua. E c'è questo specchio che ingrandisce super. Tipo, è un super ingranditore, non so come... Boh, è fichissimo. Questo è un hotel che costa, tipo, a camera, una cosa come 1300 euro a notte. Tipo, c'è scritto da qualche parte, non so, non ho ancora letto. Faccio un po' schifo stamattina con le guardature. Comunque, qui dentro, che tra l'altro c'è anche la spa e ho scoperto che la piscina è riscaldata sempre. Fighissimo, giorno e notte. Fantastico, ho visto il costume di fare un bagno. Adesso tra poco si parte, si lavora. Aspetto adesso che si stia caricando la batteria perché erano diarie ben scaricate. E si va. Siamo in partenza, abbiamo fatto le ultime riprese col drone. Abbiamo fatto tutto quanto intorno e si è bruciato un eluica, ma siamo riusciti a volare lo stesso. Ne ha otto, quindi una resta ferma, però funziona. Ora ritiriamo le cose e e poi si va. Alla, alza, alza. Vengo ragazzi. Vengo. Vengo. Grazie.